Andiamo! Brava Gina! Voglio te come insegnante. Non potevo andare alla moda con l'arte perché quest'arte contemporanea, insomma, è meglio chiudere gli occhi e non vederla. No, assolutamente no. Non c'è nessun artista che ti piaccia particolarmente? Beh, quelli vecchi, diciamo. Non dico l'arte classica ma nello stesso tempo moderna, contemporanea anche, classica ma contemporanea. Senti, per quanto riguarda la fotografia, quando tu sei andata a Cuba da Fidel Castro, tu eri andata, vedi che già ti viene l'occhietto come te conosco, amore. Grazie.